C'era una volta un prodotto di design. Raccontami la storia del tuo prodotto. Le nostre relazioni sono fatte di storie, aneddoti, narrazioni. Se ci pensi, passa parola. L'altro non è che è una storia. Incontriamo un amico che ci racconta di aver cenato in un buon ristorante o di aver acquistato un nuovo prodotto. Tutti noi siamo molto più narratori di quanto pensiamo. Tieni presente che le storie hanno il potere di farsi ricordare e poi di lasciarsi tramandare. Solitamente tendiamo a riraccontare ciò che ci viene narrato. Racconta la storia del tuo prodotto. Fai in modo che chi lo guarda non colga solo la bellezza estetica o l'utilità funzionale di ciò che gli proponi, ma riesca a capire ciò che c'è dietro. La magia di un'intuizione, la passione di un progetto, la casualità di un'idea. Che cosa ti ha spinto a realizzare il prodotto così? Che cosa ti ha aiutato a renderlo innovativo o bello a vedersi? Racconta la storia del tuo prodotto. In questo modo chi lo acquista acquisterà anche la sua storia. Metterai un po' di anima nei prodotti che vendi. Grazie. 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 Grazie.